Ciao a tutti ragazzi, sono N.D. e bentornati su FTB Monster Allora, intanto ho messo a cuocinare No, a cuocinare, a cuocinare Che cos'è? Non si sa, poi quando cresceranno bene scopriremo cosa va Cosa sono tutti questi Vabbè, intanto abbiamo preso questi che sono i cotton e qualcosa Allora, io ho messo a cucinare qui il copper Il copper che poi ci servirà più avanti, sapete che il copper serve sempre Poi ho preso questi e ci facciamo Ma porca di quella vacca Ci facciamo questa, che è lo zainetto classico Poi ho preso la clay Che ci servirà per fare la tinker construction Facciamo il forno, quello gigante Quindi, no Tutto qua Ok, per fare il forno gigante ci serve La sabbia La clay e la gravel Quindi, la sabbia ci abbiamo 64 pezzi E vabbè La gravel tocca andarla a prendere Per la gravel io in teoria avevo visto Una zona molto interessante Però non mi ricordo dove cacchio era Centro caverna, villaggio Fa un po' vedere il villaggio Fa un po' vedere il villaggio Ah no, questo era quello di sabbia Ah Non sto a prendere il culo Cazzo urlate voi Vabbè Niente, dobbiamo cercare un posto con la gravel Allora Interno caverna gigante Vediamo se qua c'è... Ehi, ce l'ho sotto i piedi Da che cuore Perché per non dire culo Che bucce de culo Ah, ho trovato anche Un paio di aggegge Un paio di cose Vabbè Però quelle non mi interessano adesso Mi interessa questa La gravel mi interessa Diamine Allora ragazzi Io sto Parlando Ma Se ogni tanto smetto ragazzi Perché ho il dente che è dolorante Mmm Fa male raga Fa veramente male Porca di quella vacca Maledetta Porca di quella vacca Maledetta Fa veramente male Comunque Bando le ciance Ciancio le bande Qua abbiamo tolto tutto Sembrerebbe di sì Questa è terra Non mi interessa Io volevo vedere se c'era l'altra Di quella Buon buon King con Buon Buon Quella lì Qui non c'è nulla Io devo fare le torce però Devo fare le torce Caspiolina Se no voi non vedete Ne merito tubo Uh, altra lì Altra qui Ok Allora ci serve questa Poi Avevo la tin Ma la prendiamo Perché pure la tin è importante Mi servono le torce Guardate L'ammatoffa De Cristoforo Colombo Torce 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 Allora intanto Vi annuncio Che sul canale Siamo diventati Un bel po' 117 Una cosa così Grazie a tutti ragazzi Siete veramente Fantastici Continuate ad iscrivervi A spammare i miei video Su facebook I vostri amici Chiamatele Ditegli Oh c'è Andy Che sto facendo Dei video spettacolari Mi raccomando Invitate Vostra madre Vostra zia Vesto nonna No scherzo Però Spammate Ditelo che Vi sta piacendo Le serie che sto facendo Uh ferro Vabbè Alla fine siamo andati in caverna Come potete vedere No però Adesso torniamo indietro Anche perché si sta facendo Buio E nel buio Non è che mi piaccia Gran che a me Questo non è gravel Quella non è gravel Lì c'è una mia torcia Qui a posto così Qui c'era Un coso Sì Eccolo qua Questo è mio Uh un altro Un altro e due E l'altro era caduto Se non sbaglio Sì Eccolo qua Preso Uh l'altra Quanti pezzi sto Eeeh Proprio Ce ne servirà Tantissima 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 proprio Che se non possiamo fare Quella geccio Lì Madonna Raga fa poco male Io non voglio fare Il pessimista Ma qui porca Puttegna Mi sto imbottendo di roba E non serve Un tubo O quarzo Mi sto Oh è finita Quella pala Porca di quella vacca Quasi è finito pure il piccone Ok Stavo a 72 Vabbè Io direi che va bene così Per ora Va anche bene così Quindi Sì Torniamo a casa Teleporto Andiamo a fare Nene nanne Che se non si dorme In una delle puntate Non siamo contenti Andiamo a vedere qui Come sta 30 pezzi Allora Poropopo Dobbiamo fare Praticamente Questo geccio qui Guardate Vi faccio vedere Vi faccio E dai Eccolo qua Questo Questo miscuio qua Sand Gravel E clay Che fa Due di questi Quindi 64 64 64 Faranno 128 Di questi Aggeggetti qua Che sono I shared brick Dobbiamo fare questi Dobbiamo cucinarli Perché poi Vi faccio vedere subito Allora Sand Gravel E clay E clay Guardate La ground Della ticket Construction Eccoli qui 128 pezzi Vanno cotti Ovviamente Non abbiamo più un tubo qui Ecco Sapevo io Anche perché Ok Se i pezzi dovrebbero bastare No No Tu togli Ti faccio Dopo Mi serve Che mi cucini Questa Mi serve Che mi cucini La ground Perché mi servono Quei cosi Oh Shared brick Benissimo Stiamo andando bene Stiamo andando molto bene No Questi devo per forza Cobblestone La mettiamo là La ground La lasciamo qua La dirt via Il copper Va nel copper Ok 4 Benissimo Una volta arrivati a 4 Si fanno questi Ovviamente ci fa anche questo qui Che sarebbe Il nuovo E ti spiega Quello che devi fare Cioè Questi qua Quindi Poi bisogna fare Tutta sta roba Big iron Che figata Vabbè comunque Da lì si può fare Il bronzo L'alluminio L'allumite Il minilium Madenfromm Cobalt E ardite Comunque Il primo che da fare È il bronzo Perché col bronzo Facciamo Un paio di macchinari Fichi Desi macchinari Di armi Perché con queste Facciamo le armi Ragazzi Facciamo tante armi Di queste ne serviranno Tipo 15 16 Se non erro Si Comunque Siamo Siamo là 3 A voglia A te A voglia A te Vabbè ragazzi Io Stopperei qui Ci vediamo Tra Pochissimo Per voi Pochissimo Per me Sarà una vita Aspettare qui Che questo Fa sti cazzo De cosi Però vabbè Comunque Dio che dolore Sento veramente Un cazzo di dolore Questo è da smacerare Anzi perché non Ho metto subito Smacerà Così almeno Tanto mi fa Una cosa Se non qui Affittamo a Natale Ok Un altro e 4 Vabbè ragazzi Ci vediamo tra poco Dai Finisco di fare qui Sti cacchio De cosi E ci vediamo tra poco Ah tra pochissima Ok ragazzi Eccoci qui Tornati Ho costruito 19 pezzi Di questo Perché poi Dove vado Perché poi dobbiamo fare Eccoli L'altro Li sta facendo Li sta fando Intanto Dormire Che palle sto Dormire Del cacchio Mi sbrocco io Ogni volta Allora Dobbiamo fare altri pezzi Cioè Dobbiamo fare anche Questi pezzi qui Uno smelting Control Che si fa Eccolo qua Così Quindi Eh dove vai Questi Così E si fa Lo smelting Control Poi che abbiamo Intanto prendiamo Altri pezzi Che sta Fando Poi abbiamo Uno Shared Tank Il tank Tank Come cazzo Lo vogliamo chiamare Che si fa Se non ricordo male Tutti questi qui Al centro Un vetro Esatto Esatto Quindi mi serve Un vetro Vedro Eccolo Qui abbiamo fatto Gli altri Perfetto Allora Sti cazzo di cani Adesso li ammazzo Io adesso li uccido Allora in teoria Questo Eh non si può fare ancora Mi serve altri di questi Qui Oh e abbiamo finito il coal Bello Di nuovo Dobbiamo fare anche questo Che è il Casting Beans Come cazzo Si chiama lui Poi Nove di questi Ma in realtà Non sono nove Non ne servono nove Uno Shared Tank L'abbiamo fatto Serve Leny Combition Shared Brick Sand Tanks Or Drain E un Facet E un Casting Table Allora il facet Si faceva facile Se non mi ricordo male Dove sei? Eccolo qua Si si faceva facile Il tavolo pure si faceva così E basta Ok siamo quasi arrivati Siamo quasi arrivati Speriamo che con questi ce la facciamo Perché se no Mi dobbiamo andare a prendere l'altra clay Allora Uno l'abbiamo fatto E poi ci manca Il tavolo Il casting Il casting Se io non mi ricordo male Eccolo qua Ah si è vero Ok Eh però non va bene Non abbastano Non abbastano Porca di quella Vachetta Vai Altri quattro Dovrebbero andare bene Yes Ok E abbiamo quasi tutto Che ci manca Niente Questo qua è il recipiente Questo qui dove fa la cacca Quello dove fa la pipì Tutto a posto Allora Ora vi spiego perché Basta 5 vanno bene Me ne lascio 5 E coci questi Vi spiego perché M'è servito fare Questo Non ho più spazio Però Non ce ne avrei Con un tubo Allora dove lo facciamo però Qui Lo facciamo qui Lo facciamo qua Si Lo facciamo qua Ok Lo facciamo qua Tanto devo scendere Di 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dobbiamo scendere Di 9 2 3 4 No 3 1 2 3 Così Giusto Si Dovrebbe Un quadrato Praticamente 3 3 Dovrebbe essere 1 2 3 1 2 1 2 3 E So 4 Lì Vabbè Intanto Posizioniamo Questi giù Vediamo Si infatti So 4 Porca Di quella Vacca Perché La vacca Ogni tanto Vabbè Sti cacchi Ne fanno così Poi Questi Vanno qui Così Al lato Così Così Poi qui ci va Pinco Pallo E Pancio Pillo Lì ci va Pancio Paccio Quindi Non ne ho fatti di meno Eh ragazzi Perché questi vanno così Uno Due E si è acceso Benissimo Funziona Perfetto Funziona Wow Adesso Dobbiamo scavarne uno qua Grazie Per metterci dentro Questo Perfetto Questo Va qua Perfetto Poi volendo Per scaricare Ora vi faccio vedere Dobbiamo fare un altro Di quello Di quello Quel coso là Per scaricare Tutto quello che non ci serve Possiamo scaricarlo Direttamente qui E ovviamente ci serve Un altro Di quei brick Stupidi Porca vacca Dai dai Su 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 Ma l'unica cosa Dobbiamo cercare La lava Perché senza Oh Ah eccole qui Senza la lava Non possiamo Costruire Ok Dobbiamo fare un altro Di questo Meno male che ci siamo Andati a fagiuolo Proprio A fagiuolo Eh dai Vai avanti Dio santo Quanto sei lento Ok Boh Ora Dobbiamo mettere La lava Qui dentro Praticamente Qui Dobbiamo metterci Adesso vi faccio vedere Che Mettiamo le prime cose Intanto andiamo a prendere La lava Mangiamo Oddio che dolore Regà Mi sta a fa proprio male Mi sa che mi dobbiamo Prendere qualche Antidolorifico Quanti Qualche Antidolorifico Dollarifico Fico 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 Uh gold Vabbè Qui sta facendo Altri di questi Ma dobbiamo mettere L'iron Perfetto Guardate il copper Che c'ho Interessante la cosa Molto interessante Che ci avviciniamo A fare altre energie Altre cose Dai dai Che dobbiamo andare Nel nether Dobbiamo andare Nel nether Dobbiamo cercare Blades Porca di quella Vacchetta Maledetta Dobbiamo cercare I blades Allora Poggiamo tutto qua Intanto Questi qui Ok Questa ce la portiamo Bene Perfetto Allora Poi Questo qui Lo poggiamo qui Questo no Ci serve Ok Perfetto Ci siamo Ci siamo Vuoto Allora Dicevo Adesso dobbiamo Costruirci Uno Di quei Di questi Cosi qui Per fare Il piccone Per fare Il piccone Ci serve Questo Eccolo qua Questo Quella x E questo Ci serve Questo La x Che dobbiamo fare Eh non mi ricordo più come si fanno i pattern Però mi devi dare il libro di prima Perché senza i pattern Ok Sì Due bastoncini Due Marca vacca Legno Mi bruci tutto il legno Io non ce l'ho più il legno Non ce l'ho più il legno Vabbè usiamo uno di questo Però non è giusto Io non ce l'ho più il legno Devo andare a ricerca del legno No Questo non diventa Vero Maledetto Vabbè Intanto facciamo I bastoncini E me ne serve un altro Perché devo fare così così E un altro pezzo di legno Ok Andiamo alla ricerca del legno C'è una foresta che è qua Poi andiamo lì eh Poi andiamo anche lì E lagga Madonna raga Sto coso lagga ogni tanto Non mi piace Non mi piace Per niente Allora Legno Legno è normale A sto punto Ci serve Uy parkour Ah con questo qua non funziona Ti capite Ma vatta Pian Che c'ha Avete messo a fa Se con questo non funziona De pala De piccone De pala De coso De vabbè Qua roba Non ci arrivo Ci sono arrivato Non ci arrivo Ok Perfetto Cioè Mi sembra un po' Una stronzata Che non funziona Con questa La tricapitero Perché Ma a sto punto Falla funzionare No Che te costa Wow Wow Mamma mia Che salvata Ok Torniamo a casa Così che a me Mi ho avuto E core Mi sono già stancato Solo a vederlo core Qui è fatto Perfetto Poi Questa la dobbiamo Trasformare Bram Oh Mo ce ne abbiamo un sacco De pezzi Così E così Benissimo Stencil worker Allora Un paio Ne facciamo un paio Sì Next 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 La x Ci serve la x Eccola Pipì Poi ci serve Basta Il bastoncino Normale bastoncino Questo Normale bastoncino E la x Ora Dobbiamo Cercare di fare Questo qua Praticamente Guardate Vi faccio vedere Questi Questi Così qua E qui Così lì Se non mi ricordo male Si dovrebbe fare No Mi serve l'altro libro Perché su questo Non mostra Non mi mostra Come craftare Che va lì Che va lì Questo qua che serviva Ah si La tool Quella è uguale a questo No No Book No No Dobbiamo fare il libro rosso Perché noi abbiamo Quello nero Dobbiamo fare quello rosso Che è quello di crafting Si E quello rosso Si fa così No Però prima voglio fare Questo Questo qui Che si fa Carta E plank vuoto La carta L'andiamo a prendere Guardate come muoio Uh è cresciuta La roba Levati Non mi fare Mamma mia Scusate Scusate Ma c'ho Il dolore al dente Che non riesco a parlare Ogni tanto Ogni tanto Non riesco a parlare Perdonatemi Se sto In momenti Un po' in silenzio Uh rica Troppo Sta dura Troppo Sta puntata Sbrighiamoci A fare questa roba E poi Vi abbandono Allora Eccolo qua Questo Con questo Si fa Colo rosso Perfetto Ok ragazzi Nel prossimo episodio Come vedete Qui sono Ha 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 Nel prossimo episodio Vi faccio vedere Come si fa Tutta questa roba Oddio Le spade fighe No Lo voglio Lo voglio Alla prossima puntata Come sempre Sono Ndd Mi raccomando Iscriviti Lasciate un commentino E fate quello che cazzo Vi pare Come al solito Ciao a tutti